Io qui ho raccolto... Tutti i successi, tutti i grandi successi. Ma poi come le canta? Io ho raccolto un'ugola, un pezzo di tonzilla del cantante... Di Robby Facchinetti, poi eh? Poi abbiamo parlato di DJ Francesco. Tu immagina, poveraccio DJ Francesco, come è cresciuto da quando era neonato. Lui li chiama ziii. C'era il padre che gli cantava le ninna nanne. Ninna nanna ninna! È vero! Questo bimbo a chi lo dà? Se ne va da solo il bimbo. Immagina... Ma guarda, noi adesso ci stiamo ridendo e scherzando, ma sicuramente sarà andata così, eh? Tu immagini il figlio di Piero Pelù come poteva essere. No, no, no! Vabbè. Allora, andiamoci, raggiungiamo tra una ninna nanna e l'altra, adesso si balla, eh? La prossima volta però dimmelo che mi metti i tacchi, perché cercare un attimino di stare all'altezza, perché... De li colli, ma so con le altre! Eh, ma sai com'è!